Ci sono momenti in cui mi devo stendere, perché mi sembra che sia tutto troppo. Guardo in alto e vedo l'azzurro, o il grigio, o il nero, ed è un po' come se mi ci sciogliessi. E per una frazione di secondo mi sento libera e felice, come un cane, un alieno o un bambino. Mia madre non era male, solo che poi ha divorziato e ha incontrato Tony. Tony l'altro giorno ha detto che mi serve un reggiseno più grande, io gli ho tirato in testa una coscia di pollo. La mamma dice di non averlo sentito, adesso ha la casa perfetta, col giardino perfetto, nel quartiere perfetto, con i gemelli perfetti. Beh, in testa hanno un buon odore comunque, davvero. Non vedo mio padre da quando avevo otto anni. Non si è mai lasciato inquadrare, non ci riusciva. Così è dovuto andarsene. Non gliene faccio una colpa. Ogni compleanno mi inviava un bigliettino di auguri. Io lo capisco comunque. Non mi fido della gente inquadrata.